Weee! Non fare il barbone! Da oggi puoi supportarmi nello shop con il mio codice CREATOR! Clicca in basso a destra sul tasto supporto a un creatore ed inserisci XIODERONE! DAIE! Weee! Bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video! Io sono XIUDER e ragazzi anche oggi un bel po' di novità per quello che riguarda i nostri prossimi giorni di Fortnite! Subito un appunto per tutti quelli che mi hanno inondato di commenti! E innanzitutto grazie! Grazie a tutti voi ragazzi per questo bellissimo traguardo raggiunto! 200.000 siete voi! Grazie! Un applauso e una stretta di mano ad ognuno di voi! Altro piccolo appunto ragazzi! La torre dell'orologio della sfida di ieri! Purtroppo ci siamo sbagliati! Tutto il mondo dei leakers si è sbagliato avendo caricato il video! Perché tutti pensavamo che l'orologio buono fosse quello di Borgo Allegro! Invece ragazzi coordinata G9! La meridiana che c'è vicino a Palmetto Paradisiaco! Ma andiamo subito ragazzi! Agli argomenti del video di oggi vi farò vedere tutto l'elenco delle armi nella 14 giorni di Fortnite che verranno mano a mano riproposte per 24 ore! E ce ne sono alcune davvero molto molto interessanti! Ma parleremo anche del piccone Shadow Pack! Ovviamente il piccone relativo al bundle uscito ieri! lo Shadow Legends come lo chiamiamo tutti visto che è mancante! E ovviamente se ne abbiamo il tempo un po' di leaks perché la roba che deve arrivare su Fortnite è davvero davvero tantissima! Prima però voglio ringraziare tutti quelli che utilizzano il mio codice creator! Xuderone! Grazie di cuore ragazzi per il vostro supporto! quando ciò pazzate di prepotenza nello shop! Mi raccomando iscrivetevi al canale e soprattutto attivate la campanella per non perdere nessuna notifica sui miei video e sulle mie live! Ma prima... Dai! Dai la domandina raga! Ve la devo fare ve la ve la devo fare ragazzi! Domandina suggerita da un ragazzo nei commenti e ve la faccio molto molto velocemente! Pompa del nonno o pompa da combattimento? Tutti volevamo il reingresso del pompa del nonno! Bellissimo! L'hanno rimesso! Secondo me non va bene! Secondo me no! No! Non è equilibrato! Beh che uno con il pompa da combattimento ti squaglia! Purtroppo c'è qualcosa da sistemare! Figo il pompa del nonno ma lo devi tenere senza il pompa da combattimento! Comunque ragazzi ditemi la vostra scelta qui sotto nei commenti! Ma andiamo subito così! Quindi... Bada le ciance! E ciance alle bande! Ah ah! Andiamo subito a vederle ragazzi! Le armi che sono state rese pubbliche e che molto presto arriveranno in questi giorni! Come vedete il mitraglione da 100 colpi l'abbiamo già visto! Il vampa fucile ed il FAMAS li abbiamo visti! Oggi dovrebbe arrivare di nuovo lo scar silenziato! Seguito dal fucile termico, poi c'è il quad launcher, tornerà la P90, quad launcher già presente, P90, la revolver da 6 colpi, quella che abbiamo visto nella season 6, se non ricordo male, tornerà la mitraglietta tattica, tanta roba, la pistola col mirino, il fucile a pompa che si chiamava doppietta, la doppietta, l'EV Shotgun, meraviglio, EV Shotgun, uno dei miei pompa in assoluto preferiti, ma ragazzi, Bolt Action, grande ritorno del Bolt Action che nelle sue tre varianti, raro, epico e leggendario, chiuderà la carrellata di armi insieme alla balestra esplosiva! Ma c'è quel punto di domanda che sinceramente ancora non si sa bene che cosa sia! Quindi ragazzi, un sacco di nuove armi in arrivo in questi giorni! Ma andiamo avanti e ovviamente parliamo anche di un altro argomento che è quello relativo al nostro evento, l'evento della season 9! Si farà molto probabilmente al ritorno del team di Epic Games, dello staff, tutt'ora in vacanza e per questo appunto ci sono le 14 giorni di Fortnite, ma il signor Donald Mostarda mi cambia ancora prepotentemente la sua location sul profilo Twitter! Da Beach, che era la prima, a Preparing, fino a qualche giorno fa, si modifica a Planning, che vuol dire programmazione, se lo volessimo tradurre in italiano, quindi si stanno preparando, sarà un grande evento, abbiamo già visto che ci sono dei file relativi proprio al Cactus Event, che alcuni andranno nelle televisioni, come siamo abituati a vedere, altri andranno molto probabilmente nei cartelloni olografici di Neopinnacoli e sicuramente qualcosa relativo a un blackout potrebbe esserci, anche perché in realtà dobbiamo ancora capire che fine ha fatto il mostro! Ma proseguiamo ragazzi, mi piacciono questi effetti slide, ma proseguiamo ragazzi, pago, li uso, e andiamo avanti ragazzi con il piccone Stark Splitter, quindi il piccone che manca nel set dello Shadow Legend Pack, tra l'altro 19,90 a prezzo assolutamente giusto, considerando, cioè, alto ma giusto, considerando che ci sono dentro, che c'è dentro anche la copertura, che è molto bella per armi e veicoli, voglio farvi vedere ragazzi, uno spezzone di un gameplay che ci mostra proprio il piccone ragazzi, ed eccolo qua, questo è un altro, aspetta un attimo, eccolo qua, piccone in game ragazzi, come vedete la parte finale è fluorescente, così come le due strisce bianche, lasciamo andare la clip, perché, lo avete visto, c'è un altro piccone scoperto in game, che fa parte di una skin che sta per arrivare, la skin Butterfly, mi sembra si chiama, se non ricordo male, molto molto carino, anche questo, con questa piccola fatina, che rimane proprio dietro, piccone che secondo me sta anche molto molto bene con le skin quelle dei maghi. C'è ancora il piccone dietro, ma andiamo avanti ragazzi e siamo arrivati ad un altro appuntamento interessantissimo, molto interessante, soprattutto per questo weekend, sto ovviamente parlando del Friday Fortnite, Fortnite, la competizione è organizzata e supportata dallo streamer Kimstar, milioni di utenti che lo seguono, perché questo venerdì è abbastanza particolare, a parte che ci sarà Ninja, ci sarà Nick e H30, ci sarà Nick Merckx e altra gente famosa, ma in questo particolare evento ci sarà LeBron James Jr., che giocherà con un membro dei Faze, se non ricordo male, adesso mi sfugge il nome, chi è LeBron James Jr.? Dai, il nome non può non esservi arrivato all'orecchio, è ovviamente il figlio del grande intramontabile gigante buono dei Los Angeles Lakers, il numero 23 ragazzi, il grande LeBron, ovviamente, quindi tanta tanta roba, se avete modo potete passare su Twitch e sicuramente vedrete il Friday Fortnite. Ma proseguiamo ragazzi e andiamo avanti perché volevo farvi vedere insieme, volevo vedere insieme a voi l'ultima cosa interessante di questa puntata, che sono alcune skin ancora non rilasciate, le vediamo molto velocemente, abbiamo Higher Head, che è il palloncino, abbiamo i fratelli Bao Bros, che non sono ancora presenti, una delle skin più belle, Starfish, Queen of the Reef, andando avanti per il Beach Bomber, che forse è arrivato oggi nello shop, lo stiamo aspettando tutti, questo video è registrato prima dello shop del 28 giugno, il Bigfoot in arrivo, anche lui, oh è andato avanti di prepotenza ragazzi, abbiamo visto là in alto sopra il punto di rottura, la versione quella acquistabile con i 1000 V-Bucks inclusi, abbiamo Dare, molto bella anche lei, outfit raro, una delle migliori, double cross, tanta roba, ma andiamo avanti, ed eccola qua, la skin di cui vi parlavo poco fa, del piccone, Flutter, chiamata così in inglese, abbiamo anche Focus, molto carina, niente di esagerato, è un'altra skin davvero interessante, Heist, che va un po' a riprendere i quattro assi delle carte della modalità fuga, andando avanti per Pillar, ancora poco visto nei leaks, ma anche lui in arrivo, ShootCaller, molto bello, molto bello, e chiudendo con Vector ragazzi, ce ne sono altri, ci sono i backpack, ci sono i picconi, ma ce li teniamo per la prossima volta, ragazzi io vi ringrazio tantissimo per aver guardato anche oggi questo video, mi raccomando, un bel pollicione in su, iscrivetevi al canale, noi ci vediamo alle 8 in live, ciao! E non parte mai l'altro, donnazione!